Il regolamento di cui sono relatore al Parlamento colma una grave lacuna. La mancanza ad oggi di un sistema di monitoraggio, di comunicazione e verifica dei dati sulle emissioni di anidride carbonica e dei dati dei consumi di carburanti dei mezzi pesanti, camion, tir, pullman, autobus, mezzi pesanti matricolati e immessi sul mercato dell'Unione Europea. Manca in sostanza una banca dati comune. Questi dati ad ora non sono né certificati né monitorati né comunicati in maniera oggettiva e comparabile come avviene invece per le automobili e i furgoni. Questa mancanza di informazione ha determinato innanzitutto una mancanza di concorrenza fra i costruttori europei di veicoli pesanti con scarsi stimoli all'innovazione e all'implementazione di tecnologie efficienti dal punto di vista energetico. Ha determinato l'impossibilità degli operatori di trasporto che sono soprattutto principalmente piccole e medie imprese, oltre mezzo milioni in Europa, di poter scegliere i veicoli più efficienti in termini di consumo di carburante e di risparmiare sui costi del carburante stesso che rappresentano un terzo dei costi di esercizio. Infine, questa assenza di una banca dati comune determina un freno ad un'azione esercitata a livello europeo in materia di riduzione delle emissioni dei veicoli pesanti che si stima rappresentano il 25% delle emissioni del trasporto su strada, circa il 5% delle emissioni totali. Fra l'altro è una percentuale che è destinata ad aumentare in assenza di interventi. La proposta di regolamento attua alla strategia europea per una mobilità a basse emissioni, il cui obiettivo è la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nei trasporti su strada di almeno il 60% nel 2050. Le mie proposte. Primo, i dati sulle emissioni e i consumi raccolti in un apposito registro gestito dall'Agenzia Europea dell'Ambiente devono essere resi pubblici per garantire maggior trasparenza ed evitare il ripetersi di scandali tipo Dieselgate. Secondo, per aumentare la qualità e l'affidabilità dei dati bisogna elaborare al più presto un test su strada in condizioni reali di guida per i veicoli pesanti nuovi che possa confermare i dati che oggi sono misurati tramite simulazioni in laboratorio. Terzo punto, chi inquina paga. Vanno previste delle sanzioni per chi fornisce dati errati. Infine, dopo anni di discussioni, bisogna in tempi brevi decidere. Ho chiesto alla Commissione che presenti entro il 30 giugno 2018 una proposta legislativa che fissi target ambiziosi che limitano le emissioni di anidride carbonica come già avviene per le auto. Migliorare la qualità dell'aria delle nostre città, combattere il riscaldamento, globale e i cambiamenti climatici, abbassare i costi del carburante per gli autotrasportatori, favorire l'innovazione e la competitività del settore dei trasporti. Sono obiettivi fondamentali per garantire il nostro futuro. Con questo regolamento facciamo un importante passo in avanti.